L'abbiamo appena vista in quel di Francoforte, ha giocato in casa ed è stata tra le regine del salone tedesco. Ecco a voi la quarta generazione di Audi RS4 Avant. Per vederla su strada c'è ancora da attendere qualche mese, la troveremo in listino nel corso del prossimo anno. Ma di lei possiamo già svelarvi tutti i segreti. Quello più ghiotto riguarda il motore, come per ogni Audi RS che si rispetti. Sotto il cofano della familiare di Ingolstadt si nasconde infatti un poderoso 2.9 biturbo da 450 CV e addirittura 600 Nm di coppia. Numeri che servono solo a migliorare altri numeri e che rendono la RS4 un'autentica wagon spaziosa e versatile, ma allo stesso tempo sportiva come solo un'auto da corsa sa essere. Si schizza da 0 a 100 in appena 4,1 secondi per una velocità massima che, senza limitatore e comprando il pacchetto Dynamic RS, segna facili facili i 280 km orari. Dentro ci accolgono interni neri con sedili sportivi e in puntura nito d'ape, il volante sportivo realizzato in pelle e appiattito nella parte inferiore, mentre i listelli sottoporta, illuminati con tanto di logo RS, chiudono il cerchio di un modello che rischia di confermarsi tra le sportive più amate del segmento. Grazie! 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 Grazie!